Acquistare, trarre vantaggio ed inoltre fare del bene. Come funziona? Facile, con Lioness, la più grande comunità d'acquisto internazionale. Si registri ora e sfrutti i vantaggi da subito. Milioni di prodotti presso le imprese convenzionate Lioness e gli online shops, senza confini nazionali o merciologici. I vantaggi di Lioness non hanno confini. Né punti fedeltà né stelline, ritorno di denaro ad ogni acquisto. E tutto questo solo con una carta, la Cashback Card Lioness. Basta registrarsi, acquistare e trarre vantaggio. Solo con Lioness, calcolo e pagamento settimanale sul conto corrente personale. Tutto sempre sotto controllo con il suo online office Lioness. Lì può trovare anche le imprese convenzionate Lioness, in tutto il mondo o vicino a casa sua. Le imprese convenzionate Lioness guadagnano dei volumi d'affari della più grande comunità d'acquisto a livello mondiale e per questo le offrono sconti unici. Sfrutti anche lei i suoi vantaggi Cashback Lioness. Alimentari, moda, professione e tempo libero, mobili e fai da te, comunicazione, salute e bellezza, viaggi e motori. Tutto ciò che desiderate. Ritorno di denaro ad ogni acquisto e molto altro ancora. Con ogni acquisto lei sostiene automaticamente la Lioness Child Family Foundation. Questo è il suo obiettivo, promuovere l'istruzione e proteggere la vita. Lì dove è più necessario. Come può contribuire? Si registri gratuitamente. Acquisti e consigli Lioness. Lioness, la comunità d'acquisto internazionale che cresce ogni giorno, le offre anche la possibilità unica di iniziare senza rischi una carriera straordinaria. Cogliere l'occasione, sfruttarla e trarre vantaggio a lungo termine, per un guadagno stabile e sicuro. E questo non è ancora tutto. Questo è solo l'inizio. Diventi anche lei parte di qualcosa di straordinario. Lioness, ritorno di denaro ad ogni acquisto.